Siamo con Simona Molinari, la prima domanda è questa, Umbria Jets e Pescara Jets, arriva la consacrazione possiamo dirlo ufficialmente? Beh sì, è arrivata, non sono molto scaramantica, non diciamolo, no nel senso sì, quest'anno è un anno che credo proprio me lo devo incorniciare, io poi incornicio un po' tutte le cose che faccio, ma questo anno è tutto da incorniciare perché è come aver raggiunto tanti piccoli traguardi che forse dieci anni fa neanche immaginavo, quindi è un lavoro che è stato fatto negli anni con tanto sacrificio, ma tantissima passione e dai suoi frutti. C'è stato il Festival di Sanremo che come hai detto prima, la partecipazione ai big ha dato anche una certa spinta ulteriore al disco che è uscito dopo? Beh sicuramente, il Festival di Sanremo comunque forse è l'unica vera vetrina per cantautori o per musica inedita, per cui ha dato una grande mano sicuramente a tutto il mio progetto e poi a questo genere che comunque è un genere molto particolare, quindi essendo consacrato da una vetrina così è anche modo di farsi conoscere da più gente. Secondo te è il tuo disco migliore? Ma sì, io credo che gli ultimi due, in realtà il mio preferito è proprio tua e credo che in questi ultimi due anni forse il disco sì, almeno come mondo musicale, poi in realtà con quattro dischi è come avere quattro figli senza voler, però questi due in particolare sì. Sembra infatti essere quasi una prosecuzione di tua, perché il genere musicale ci incontrammo quando uscì tua e dicesti che era una svolta per te, questa sembra essere quasi una prosecuzione del lavoro precedente. Sì esatto, adesso c'è più consapevolezza anche in questo genere, quindi l'abbiamo proprio sviscerato in tutte le forme, questo è l'electroswing, quindi incominciate a sentire questa parola che sicuramente se ne sentirà parlare e prenderà piede anche in Italia, perché comunque è un genere che già in Europa ha spopolato. L'ultima è sul tour, è un tour estivo importante, oltre i due festival c'è anche per una jazz, insomma ci sono belli appuntamenti. Sì esatto, questo è ancora più bello perché inserire anche questo genere, questo mio modo di fare musica all'interno del contesto jazzistico e venendo io da quel repertorio insomma mi riempie veramente di gioia. E la chicca in Abruzzo per Scarra Jazz che voglio dire è comunque la manifestazione più importante che abbiamo, quindi è bellissimo per ti ospiti qui. Esatto, fare questo festival in particolare che è il più antico d'Italia e che comunque è proprio qui nei posti dove sono cresciuta e sulle rive dove ho scritto le mie prime canzoni è proprio il massimo. Grazie Simona e in bocca al lupo per il tour. Grazie a voi, ciao. Grazie a voi, ciao.